Betti Senatore, buongiorno! Buongiorno Ruggero, che piacere! Finalmente ci vediamo, che noi ci sentiamo e fanno! Siamo voci, Betti Senatore, per quell'italiano che non la conosce ancora è una grande voce radiofonica, Radio Capital. Ed è, e questa è la ragione per cui l'ho chiamata, una apprezzata insegnante di public speaking, cioè una di quelle persone che insegnano alla gente a parlare in pubblico. Sembra strano quando vediamo i nostri politici, perché sembra che veramente nessuno abbia fatto dei corsi di public speaking, però sappiamo che le aziende ci tengono quando i loro dirigenti, i loro manager vanno in conferenze, tengono conferenze. Insomma, è un settore in espansione. Betti Senatore da tempo va nelle aziende a fare stage per insegnare a come si parla in pubblico, quindi non solo di dizione, ma proprio prossemica e linguaggio del corpo, linguaggio non verbale e tutto il resto. E se oggi la sentiamo è perché il Covid ha messo anche il public speaking, il parlare in pubblico, a dura prova, perché oggi si parla su queste piattaforme, come tra l'altro lo stiamo facendo io e lei, e quindi anche il parlare in pubblico cambia sistema. Che cosa è successo? Innanzitutto quali erano le regole, quali sono le regole che ancora dai per chi parla in presenza, sia a una piccola riunione, sia a un solo interlocutore, sia a un'assemblea pubblica, e chi invece parla su queste piattaforme ricche di quadratini, sempre più piccoli, quanta più gente c'è. Cos'è? La cosa che rimane sempre valida è la preparazione. Mark Twain diceva, ho impiegato 15 giorni per preparare un discorso improvvisato, ed è una frase con cui io spesso inizio le mie lezioni. Ciò significa che non esiste un discorso improvvisato, che bisogna sempre prepararsi tutto. Non significa solamente mettere delle slide perfette, 3D, effetti speciali, sfumature di colore, ma bisogna anche che queste slide siano provate e che quindi noi proviamo a dire quello che vogliamo dire facendo compaciare tutto anche con un'eventuale slide che dobbiamo proiettare. Tanto più che online, nel momento in cui va la slide noi non ci siamo più, perché quella diventa la protagonista dello schermo e quindi assume più valore rispetto che all'aula, per esempio il linguaggio paraverbale, che sarebbe quello che chi ha fatto radio conosce molto molto bene, e cioè il tono, il volume della voce, il cambio di tonalità, ma anche il ritmo. Questa è una delle cose che acquista un po' più valore.